Le attrici Ilaria Spada e Paola Minaccioni, che hanno accompagnato Enrico Brignano nel nuovo film Tutta un'altra vita, sono le protagoniste della puntata di Effetto Notte. E poi, intervista all'attore romano Luca Marinelli, che alla Mostra del Cinema di Venezia ha ricevuto il premio per la migliore interpretazione maschile. Infine, il documentario Chiara Ferragni and Posted, in uscita nelle sale. Effetto Notte, venerdì alle 22.40 e domenica in seconda serata.